Siamo in camera da letto, c'è il marito sdraiato sul letto e la moglie è mezzanuta davanti a un specchio che se tocca al seno fa Amor, guarda quanto sono piccoli sti seni, ma che posso fare? E il marito gli fa, prova a passare un pezzo di carte igieniche a mezzo, vedrai che te crescono Ma che c'entra? E col culo ha funzionato